L'oca del Cairo, l'occasione fa il ladro e la moldava. Facebook pullula di strane copertine con titoli del repertorio operistico, sinfonico e da camera, i cui interpreti però lasciano un po' interdetti, trattandosi dei protagonisti delle vicende politiche di cronaca di questi giorni. Si va da Rubi Rubacuori, a Francesco Schettino, fino al gettonatissimo Silvio Berlusconi e a Mario Monti negli insoliti panni di direttori d'orchestra alla guida del coro del Parlamento italiano. Si tratta ovviamente di tiri burloni messi a segno con l'aiuto del Photoshop dai tanti melomani che popolano le pagine del social network all'insaputa delle case discografiche. Non solo l'ex premier Silvio Berlusconi, che viene raffigurato dalla fantasia del popolo di Facebook alla guida del coro delle olgettine, ma anche l'attuale Mario Monti è tra i loro bersagli preferiti. Il professore è raffigurato in una copertina con una bacchetta in mano a dirigere l'occasione fa il ladro di Rossini, sempre alla guida dell'orchestra del Parlamento ma con un cast bipartisan composto da Casini, Fornero, Berlusconi, Bersani e Fini. Dalla Francia si passa poi al poema sinfonico La Moldava, il fiume che nasce nei boschi della selva boema, attraversa Praga e si tuffa nell'elba. In questo cd più che al fiume si fa riferimento al mare, quello di casa nostra, visto che la bacchetta è quella di Francesco Schettino, alla guida di una improbabile orchestra filarmonica della costa Concordia.